Ciao, in questo video vedremo insieme le tracce che hanno lasciato nei secoli i quattro manoscritti di fiore. Come abbiamo già detto, le quattro copie del fior di battaglia che sono arrivate fino a noi sono la copia cosiddetta Pisani Dossi. Fiore stesso, nell'introduzione, ci dice che il manoscritto è stato redatto il 10 febbraio del 1409. Possiamo immaginare che l'altra copia, il Ghetti, o manoscritto Ludwig, noi lo chiameremo Ghetti per semplicità, sia stata compilata prima. Anch'essa è dedicata al Marchese Nicolò III d'Este, come la copia Pisani Dossi, ma una serie di indizi ci fanno intuire che probabilmente è stata redatta precedentemente rispetto al Pisani Dossi. Poi farò un video al riguardo. La terza copia, quella contenuta dalla Morgan Library di New York, sembra una copia più acerba rispetto a quella del Ghetti. Un fatto strano è che non abbia una dedica nell'introduzione. Questo ci fa pensare che potrebbe essere una copia precedente o contemporanea a quella contenuta al Ghetti Museum. Anche il tipo di disegni è molto simile, potrebbero venire anche loro dalla scuola dell'Altichiero, come quelli della copia del Ghetti. Possiamo dire che sia contemporanea o precedente alla copia del Ghetti Museum, anche se non abbiamo alcun tipo di certezza su questo. L'ultima copia è il cosiddetto Florius d'arte luctandi, contenuto oggi alla Biblioteca Nazionale di Francia. Sicuramente quella copia è successiva anche al Pisani Dossi. Lo stile di disegno, il tipo di impostazione ci fa veramente pensare che sia una copia almeno degli anni 20 del 400. Ma adesso andiamo nello specifico. Abbiamo impostato questa linea temporale con il manoscritto Morgan, o contemporaneamente il Ghetti nel 1409, il Pisani Dossi e infine qualche anno più tardi il Florius. Ora andiamo a vedere uno per uno la storia di questi manoscritti, o perlomeno quel poco di tracce che sono arrivate fino a noi. La prima traccia documentale al di fuori dei manoscritti di Fiore è un elenco della Biblioteca Estense del 1436. Nella posizione 39 possiamo leggere questa descrizione. Questa è la prima testimonianza di un manoscritto che riporta il nome del magistro. La seconda traccia è al posto 253 e lì possiamo leggere Libro 1 de insegnare de scremia, affigurato e con lettere, per vulgare, in membrana, compilado per magistro Fiore, furlano, coperto de coro e rosso. Queste sono le prime tracce di almeno due manoscritti presenti nella Biblioteca Estense. Ci sono anche altre descrizioni di libri sull'arte della guerra e della scherma. Il problema è che nessuna di queste riporta il nome di Fiore. Queste due tracce potrebbero essere del Ghetti e del Dossi, ma non ne siamo affatto sicuri. Negli anni successivi ci sono altri elenchi delle Biblioteche Estense, ma ne voglio parlare in maniera più specifica successivamente. Adesso partiamo dall'idea che queste sono le prime tracce manoscritte dei libri di Fiore. Vediamo adesso il probabilmente più antico dei manoscritti che ci sono arrivati, quindi il Morgan. Dopo gli elenchi della Biblioteca Estense ovviamente non abbiamo più traccia nei manoscritti di Fiore. Il Morgan compare intorno alla fine del 1700 all'interno della biblioteca di Jacopo Soranzo, un grande senatore veneziano. All'interno della sua raccolta di libri c'è un volume, una miscelania di vari pezzi di manoscritti, chiamato Arte di armeggiare a piedi e a cavallo. All'interno di questo volume, ricco di tutta una serie di fogli che purtroppo non ci sono arrivati, tra le pagine 241 e 259 abbiamo i fogli dell'attuale Morgan. Perché dico da questa pagina a questa pagina? Perché le pagine del Morgan sono ancora con quella numerazione. Non solo, questo qui ci fa capire molte cose. In primis il Morgan attualmente è il manoscritto più spoglio di quelli che ci sono arrivati, ha solamente 19 fogli. Molto probabilmente, prima di finire nella raccolta di Soranzo, è stato smembrato, le pagine sono infatti l'una slegata dall'altra, e molti fogli sono andati persi. Inoltre, come ho teorizzato nel mio libro Fior di battaglia, manoscritto M383, probabilmente l'ultimo foglio non è neanche appartenente al vero Morgan. Sarà una copia successiva, addirittura un foglio più vicino al Ghetti. Dobbiamo immaginare che nel corso dei secoli, fino al Settecento, tutta questa serie di fogli, di manuali di scherma di vario tipo, di arte del combattimento a cavallo e a piedi, siano stati raccolti dal Soranzo in questo unico volume. E già lì sono nate gli scambi di pagina presenti attualmente nel Morgan, la giunta probabile di questo foglio alla fine e probabilmente anche la scomparsa di moltissimo materiale del Morgan originale. Tra il 1780 e il 1835, la biblioteca Soranzo passa a Luigi Canonici, un grande uomo di chiesa e di cultura italiano, con un'immensa, vastissima biblioteca. Parte di questa biblioteca viene acquistata nel 1835 da Walter Sneed a Londra e con questa parte di biblioteca viaggia anche il nostro manoscritto. Nel 1903 parte della biblioteca di Sneed viene acquistata dall'antiquario italiano Tommaso De Marinis. Sarà proprio lui a dare la forma attuale al manoscritto Morgan, a rilegare le pagine in questo modo e metterà anche una sua nota personale alla fine. E sarà proprio lui, con questa nota alla fine del libro, a dirci che nel 1909 il libro viene venduto a John Pierpoint Morgan, quindi attraversa l'oceano e arriva in America. Da padre in figlio il libro finalmente verrà donato alla fondazione Morgan di New York, alla Morgan Library, dove risiede attualmente. Un'altra affascinante storia è quella del manoscritto Ghetti. Dopo le tracce che abbiamo visto nell'elenco della biblioteca estense, il Ghetti passa a Niccolò Marcello, un doge veneziano, entro gli anni 70 del 1400. Dopo una breve traccia nella sua biblioteca, il manoscritto scompare di nuovo, per riapparire soltanto alla fine del 1600, quando viene donato ad Apostolo Zeno, il quale ci ha lasciato una sua personale trascrizione dell'introduzione del libro. Dopo questa trascrizione, il manoscritto scompare di nuovo e appare agli inizi del 1800, intorno al 1825, quando viene venduto da Luigi Celotti a Sotenby di Londra, i quali a loro volta, verso la fine del 1800, venderanno il manoscritto che finirà nella collezione di Thomas Phillips. Nel 1966 verrà poi venduto ai collezionisti Peter e Irene Ludwig, da cui prende anche il nome di Manoscritto Ludwig. Poi nel 1983 viene acquistato da Paul Ghetti e da lì farà parte del Ghetti Museum di Los Angeles, dove è tuttora. Il manoscritto Pisani d'Ossi, invece, scompare totalmente dalle cronache fino al 1660, in cui Scheer de Prevosti, dalla Val Brengaglia, lo vende nel 1663 alla famiglia Sacchi da Bucinigo. Da allora perdiamo di nuovo le tracce di questo manoscritto, che ricompare soltanto agli inizi del 900 nelle mani di Carlo Pisani d'Ossi, un grande letterato italiano. Nel 1902 Francesco Novati fa una copia infaximile del manoscritto, ed è quella su cui tuttora si basano gli studi. Infatti, la copia originale viene perduta agli inizi del secolo. Solitamente ci si rivolge come Novati alla versione facsimile e Pisani d'Ossi all'originale. Purtroppo l'originale viene disperso nei primi anni del 900. In questo momento si è abbastanza sicuri che sia rimasto nelle mani di una famiglia italiana, che però lo custodisce gelosamente e non vuole dare una copia al pubblico. Per cui mi rivolgo a te che mi stai ascoltando. Se per caso fai parte di quella famiglia o conosci qualcuno che sa del manoscritto originale, vi prego veramente di farvi avanti. Sarebbe meraviglioso per noi avere almeno una copia digitale da poter diffondere tra gli studiosi e su cui poter fare delle ricerche approfondite. Anche solamente la possibilità di fare una copia digitale sarebbe fantastico. L'ultimo manoscritto di cui dobbiamo parlare è il Florius de Arte Luctandi, che per fortuna ha avuto una vita molto più tranquilla rispetto agli altri manoscritti. Redatto in latino ci fa pensare che sia una copia destinata ad un potente estero. Difatti nel medioevo il latino era un po' come l'inglese di oggi, era una lingua internazionale parlata in tutta Europa. È plausibile pensare che uno o più nobili italiani per fare un dono ad un nobile francese, inglese o tedesco facessero una copia di un manoscritto decorata e miniata come il Florius con le scritte in latino in modo che potessero essere comprese anche all'estero. Anche questo manoscritto scompare per secoli e riappare nel 1635 in Francia. Un mastro cartaglio che lavorava presso Puamoyen per Sir Jansen nella collezione del marchese Louis Philippot, che proprio in quella data lo dona alla Biblioteca Reale. La Biblioteca Reale di Francia nel passare degli anni diventa la Biblioteca Nazionale di Francia, dove il manoscritto viene custodito. Viene messo su uno scaffale praticamente dimenticato fino al 2008, in cui uno studioso si accorge di lui e si accorge che non è un semplice manoscritto che riporta l'arte militare della guerra, ma bensì si tratta di una nuova copia del Fior di Battaglia. Queste sono le quattro copie che sono arrivate fino a noi. Molto probabilmente ce ne sono delle altre in giro per il mondo e le pagine mancanti di molti di questi manoscritti. La ricerca continuerà e secondo me ci riserverà moltissime sorprese. Per adesso mi fermo qui. Parlerò in un prossimo video dei possibili altri manoscritti che ci sono in giro. Nel frattempo un abbraccio e al prossimo video! Grazie per la visione!